Gli ultrasuoni sono particolarmente indicati nel trattamento esterno di tutti gli inestetismi della cellulite con particolare efficacia nel rimodellamento delle adiposità localizzate, nel trattamento della pelle a buccia d'arancia e della pelle ruvida, nell'incrementare e migliorare la plasticità dei tessuti, nel migliorare il tono dei tessuti rendendoli più compatti e lisci, nel facilitare la penetrazione di sieri e creme anticellulite, nella riduzione dei noduri cellulitici, nel riattivare la circolazione locale e il nutrimento della pelle. Potrai godere di questo trattamento presso il centro estetico Aeron Gym, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 22 e il sabato dalle 10 alle 20.